Ciao ragazzi, oggi sono in versione naturalistica, però facciamo comunque l'analisi di Bitcoin e della sua situazione relativa all'analisi ciclica, perché fra qualche giorno arriva la scadenza di giugno e in effetti Bitcoin sta iniziando un po' ad avere debolezza da qualche giorno, ma fortunatamente non tantissima e quindi questo ci porta ad essere speranzosi, diciamo in sostanza per quello che dovrebbe essere questa nuova ripartenza poi del ciclo nuovo ragazzi, perché potrebbe essere in effetti una ripartenza con i botti, con i controfiocchi e quindi attenzione anche ad assumere posizioni short, anche se questa chiusura di giugno potrebbe in effetti magari mandare i prezzi al di sotto di alcuni supporti che vedremo tra un po'. Guardate che pace qui, non esistono le crypto in questo posto, no, non esistono, comunque ci spostiamo sui grafici guardiamo quello che sta succedendo e vediamo anche altre crypto interessantissime come Ethereum e Binance Coin perché Binance ha fatto anche un ritracciamento importante e ha, diciamo, toccato anche dei livelli di supporto che sono assolutamente molto rilevanti, quindi possono essere, diciamo, anche considerati come una fase di arrivo della coin quantomeno di breve periodo, quindi poi ci spostiamo sui grafici ragazzi ci vediamo noi invece in settimana mercoledì con un altro video molto interessante che viene sempre da una vostra richiesta, una vostra domanda che mi avete fatto in uno dei miei video quindi sono contentissimo quando le fate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e fate ovviamente tutte le vostre richieste nei vari commenti del video ciao bene, ciao a tutti, bentornati, siamo sul grafico, subito stiamo davanti al grafico di Bitcoin guardiamo questa grande cavalcata, questo è il grafico che stiamo seguendo da un po' di tempo e che ci indica il trend rialzista di Bitcoin, tutte queste fasi che stiamo gestendo da un punto di vista di trading questo è anche un esercizio di formazione fantastico ragazzi quando si segue un mercato bisogna farlo così giorno per giorno si fanno ok previsioni di lungo periodo, va bene a volte per prenderci il caffè insieme parlarne tutti insieme ma poi alla fine il trader quello che deve fare è giornalmente cercare di capire il mercato per fare analisi che possano avere un vantaggio in termini di probabilità sul mercato stesso, sugli altri stakeholder del mercato, le persone che sono all'interno insomma che cercano di fare trading insieme a noi e questo è il nostro operato diciamo questo è il nostro obiettivo quindi non dobbiamo prevedere il futuro ma dobbiamo gestire quello che sono le fasi di trading e così stiamo facendo facendo queste analisi appunto ogni giorno sui mercati analisi ciclica, analisi tecnica di Bitcoin era una fase che vi avevo indicato questa con la mia freccetta Bitcoin ha tentato nella giornata del 30 di maggio di rompere la resistenza diciamo a 9 mila dollari non c'è riuscito, falso breakout e torneremo tra poco anche su questo concetto del fake breakout perché vi faccio capire quando parlo spesso nel dire aspettare una chiusura daily soprattutto su livelli di supporto di resistenza importante perché i mercati e la volatilità nei mercati spinge spesso a fare dei fake break quindi come questo che abbiamo visto il 30 di maggio siamo nella fase ciclica finale del ciclo di giugno che dovrebbe portare a questa fase ribassista quindi una fase di riposo dei mercati lo specifico più volte per tutti di voi spesso non comprendono il concetto della fase ciclica di ribasso non significa che i mercati crollano, non significa questo ragazzi significa che i mercati si riposano, fanno dei mini trend ribassisti magari di qualche ora, di qualche giorno, tutto qui il trend è rialzista sui mercati come dico da un bel po' di tempo, quasi due mesi e assolutamente andare contro trend è sbagliato come l'ho sempre detto trend is your friend quello che dobbiamo fare quando facciamo analisi ciclica è comprendere che ci sono delle fasi di riposo dei mercati che possono essere anche abbastanza importanti e quindi prepararci anche dal punto di vista di atteggiamento del mercato a quello che potrebbe fare la scadenza imminente che stiamo monitorando già da un po' di tempo è quella intorno al 10 di giugno 10 di giugno quindi significa più o meno ragazzi intorno a questa data potrebbe anche ritardare un po' in questo caso perché se i mercati non accelerano a ribasso velocemente quindi non fanno magari qualche giornata un po' più forte di ribasso potrebbero fare trading range che poi tra l'altro è quella che è la mia aspettativa migliore quindi io sono tendenzialmente più propenso a vedere i mercati fare trading range in questo caso fino alla decada di giugno quindi per un'altra settimana, insomma 10 giorni e poi ritirare i remi in barca e cercare di capire poi successivamente cosa fare se andare effettivamente a riprendere il trend rialzista o a rompere la famosa resistenza 9.000 dollari vedremo quello che succederà prima fase di analisi è quella riguardante la struttura ciclica ve la indico quindi con i miei cerchietti qui è quello che è la chiusura ciclica di giugno attesa quindi in questa fase qui la vedete anche indicata dalle freccette dove arriverà il prezzo dove potrebbe arrivare vi dico io ragazzi perché nelle analisi cicliche non c'è l'analisi della previsione di prezzo quella la si fa con l'analisi tecnica l'analisi ciclica serve a capire le tempistiche che comunque è una delle analisi fondamentali di chi fa stock picking quindi chi decide di entrare sui mercati deve sapere anche quando farlo se volete assumere una posizione di long sui mercati come bitcoin magari farla oggi o domani non è proprio una genialata ecco questo è il significato dell'analisi ciclica magari aspettare l'evolversi degli eventi fino a questa scadenza temporale sarebbe meglio ovviamente se vedete uno schizzo all'insù un breakout fondamentale di resistenze imponenti come quelle a 9.000 adesso 9.100 è diventato il nuovo massimo a quel punto magari provate comunque a entrare ovviamente si fa perché al di là delle analisi i mercati comandano sempre quindi a quel punto magari entrate lo stesso sui mercati però se dovete farlo ora su un pullback sui ribassi magari qualche giorno aspettate perché potrebbe il mercato ritracciare un po' di più o comunque fare questa fase di debolezza questo è il modo intelligente di utilizzare queste analisi quali sono da un punto di vista invece di analisi tecniche i livelli da monitorare che poi sono quelli di prezzo il primo è fondamentale è questo qui ragazzi vedete quello dei 7.800 dollari e 7.800 dollari potrebbe tranquillamente essere il livello di arrivo di questo ciclo che vediamo qui questo solo se il mercato da qui a domani dopo domani non tenta addirittura di fare nuovi massi quindi se non va qui perché potrebbe anche ancora il tempo ce l'ha potrebbe tentare di rompere i massimi e poi chiudere il ciclo in questo modo quindi fare insomma quello che avete visto qui in passato la stessa identica cosa sinceramente in questo momento il mercato non sta dimostrando questa forza di poter andare a rompere i 9.800 ma bitcoin ragazzi a volte lo fa in un'ora quindi quando noi parliamo di queste analisi sui mercati cripto dobbiamo anche cercare di capire quello che stiamo dicendo tendenzialmente se fa una cosa del genere andrebbe comunque tradata long e a quel punto bisogna assumersi il rischio per chi magari non è entrato prima perché gli ingressi erano sicuramente stati dettati molto tempo fa ragazzi ovviamente qui siamo sui prezzi un po' più altini quindi dovete stare un po' più con gli occhi aperti la sua natura invece in questo momento quella che magari sarebbe più consone è quella di fare cinci schiare quindi trading range in un po' di tempo e poi magari tentare una rottura degli 8.000 andarsi a posizionare qui per poi di prendere quello che effettivamente a noi interessa cioè il nuovo ciclo che sarà quello dovrebbe essere quello che dovrebbe andare a tentare la rottura dei 9.000 dollari e portare Bitcoin verso il suo secondo target perché il primo target ragazzi che vi avevo indicato nell'analisi famosa che abbiamo fatto il webinar per tutti gli iscritti che siete stati quasi 500 a quel webinar tutti hanno avuto la registrazione hanno avuto la possibilità di vederlo avevamo indicato 9.000-10.000 come target di medio periodo quindi il primo è stato già raggiunto da Bitcoin adesso manca il secondo che dovrebbe essere più o meno qui esattamente qui vedete e quindi se questo ciclo chiuderà in maniera non troppo profonda come sta facendo più o meno in questi giorni con una fase di stabilità poi potrebbe in effetti andare a rompere i 9.000 e spostarsi sul secondo target di medio periodo e poi si vedrà come sempre per chi invece di voi ha assunto posizioni già da tanto tempo per esempio quando abbiamo indicato la famosa rottura dei 4.400 dollari il mercato ci ha dato un primo livello di stop che è importantissimo da considerare perché è questo qui intorno ai 7.000 dollari con close al di sotto di 7.000 dollari almeno confermate in daily ragazzi il trend di breve periodo invertirebbe e diventerebbe ribassista di breve a quel punto un take profit quindi uno stop profit chiamiamolo così sarebbe salutare per una buona parte della posizione perché i mercati potrebbero in effetti riprendere un ciclo ribassista magari di qualche mese quindi il mercato in questo caso ci ha già indicato un primo livello di stop dal basso per chi fa trend following professionale quindi chi segue i mercati chi segue il trend e non fa operazione così insomma non ragionate ragazzi ok deve inserire questo livello di stop tenere monitorata il livello di 7.000 come supporto di breve periodo passiamo ad Ethereum ragazzi eccolo qui indovinate identico uguale a Bitcoin allora non mi ripeto perché se no facciamo lo stesso video dico le stesse cose la scarsa ciclica è quella che vedete qui ok siamo sempre intorno al 10 giugno è una scadenza temporale che potrebbe essere leggermente più spostata questo lo sapete ormai non mi ripeto l'andamento è lo stesso quindi o cercherà di rompere i 280 e poi fa la close non sta dimostrando questo in questo momento sta dimostrando di voler restare in bara di congestione e poi fare direttamente magari la close così che potrebbe andare ad impattare su due livelli di supporto uno è 130 dollari e l'altro è 225 dollari che sono i livelli di supporto per quanto riguarda Ethereum ci arriverà potrebbe anche non arrivarci mai ragazzi i cicli si possono anche concludere in trading range ma non ci interessa perché sinceramente tradare un ciclo short di questo tipo contro trend contro mercati di una volatilità molto alta come quelle delle crypto fatelo solo se siete trader professionisti se avete un'alta formazione se sapete quello che state facendo con la trading on academy gli utenti premium i trading system che seguiamo lì qualcuno andrà sicuramente short in una fase ciclica ribassista sono stati fatti anche per dare formazione a tutti i partecipanti all'academy premium e quindi servono anche a far capire come si ragiona da un punto di vista di trading e quale miglior modo di imparare se non seguire anche un sistema meccanizzato un sistema algoritmico che indica appunto dei segnali di ingresso short anche in una fase del genere poi gestirli manualmente ragazzi è tutta altra pasta tutta altra situazione dovreste avere più attenzione alla fase di ripartenza invece che secondo me è qui intorno a questa parte potrebbe essere un po' diciamo più profittevole quindi il tentativo sarebbe quello di attendere la close ciclica e poi aspettare di entrare long quindi al primo breakout magari tentare i vari long per salire sul prossimo ciclo che potrebbe avvenire è quella la vera strategia quella che porterebbe maggiori profitti cioè tentare nei migliori dei modi di salire sul prossimo ciclo quando partirà ci sono diverse tecniche l'ho insegnato in tutti i corsi per fare queste cose basta aspettare un breakout ci sono diversi modi con time frame differenti non è diciamo possibile descrivere ore e ore di corso ragazzi in un video di youtube però chi di voi è formato sa quello di cui sto parlando ok passiamo al binance coin assolutamente salutare ragazzi questa fase di riposo per quanto riguarda binance coin l'ho detto nel video precedente che il mercato aveva una pendenza ingestibile ingestibile assolutamente sbagliata se possiamo dire così nel medio periodo per un rialzo di natura normale diciamo per un rialzo che fosse assolutamente più naturale possibile e ho detto più volte che assolutamente i mercati dovevano rientrare sui loro livelli di media e soprattutto in questo caso che aveva fatto questa pendenza vi ricordate vi ho detto che è una pendenza senza senso e binance coin sta tornando ai suoi livelli medi esattamente questi che è rappresentato anche tra l'altro dalla media 50 periodi quella che vedete qui esattamente questa media qui ragazzi che è arancione è la media a cui sta attendendo quindi sta cercando in sostanza di ritornarci che poi è questa configurazione ovviamente guardate un po' quando e come durante la fase di scadenza ciclica ancora una volta presente sui mercati perché c'è una sinergia in questo caso nei cicli di metà giugno questa sinergia molto bella che i mercati stanno facendo ed è esattamente una sinergia intorno alla scadenza del 10 giugno lo farà anche Binance Coin probabilmente sì ragazzi dove può arrivare allora ci sono diversi livelli di supporto il primo è 30 dollari poi abbiamo questi 28 e poi questa fase qui che è un po' più giù 27 sono tutti i livelli di supporto ve li ho indicati tutti quanti e sono indicati da questa parte qui diciamo del grafico quindi tutti i livelli di supporto ma volevo anche farvi ridere quando vi ho accennato vi ricordate tempo fa alla famosa resistenza come si fa a calcolare le resistenze di un coin che fa solo rialzi quindi che non ha in sostanza resistenze perché in trend rialziste fanno massimi sempre più alti come si fa vi ho indicato 32 35 37 guardate un po' dove ha raggiunto il suo massimo a 35 dollari 35 e qualcosa ma perché ragazzi perché sono livelli emotivi tutto qui i mercati sono emotivi quando si tratta di incrocio di domande offerte equilibri di mercato alla fine i comportamenti sono molto molto similari tra tutti i mercati di chi ha decenni di esperienze nel trading lo sa tutto qui allora fase ciclica ribassista anche per quanto riguarda Binance Coin ma ovviamente trading range ragazzi non sono veri ribassi insomma sta prendendo fiato il mercato anche se dire insomma che prende fiato con un ribassi del 5% su un mercato old farebbe rabbrividire nei mercati cripto sono respiri semplici respiri ok siamo intorno al 10 vedremo quello che succederà manca una settimana quindi il tutto è rimandato alla prossima settimana iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto così non perdete i nuovi aggiornamenti noi ci rivediamo mercoledì col prossimo video mi raccomando attenti a questa fase a guizzi ribassisti gestitela molto bene scrivetemi nei commenti tutto ciò che non vi è chiaro e tutto ciò che avete in testa ci rivediamo mercoledì ciao a tutti